Allora, ti devo smentire, anche la direttrice poi chiederò conferma. Il verbale che tu citi, leggo testualmente, dice La Presidente cende nuovamente la parola al Direttore Anna Ronchi, la quale rimanda all'incontro svolto in data 17-12-2020, nel quale era presente, era stato presentato ai sindaci il documento Comparazione proposta a nuova sede, azienda speciale consortile Mediolona, allegato alla presenza di liberazione, quale parte integrante e sostanziale. Vamos a vedere cosa dice questo documento. Questo documento, l'ultima pagina, non sono numerate, dice Sono state tre le offerte che sono state fatte, due di Castellanza e una di Solbiate. Per Solbiate c'è scritto Lavori di adeguamento a messa a norma impianti a carico del Comune di Solbiate e Lona Allestimento uffici 40.000, totale 40.000 Costi di gestione annuale, costi di gestione annuo, riscaldamento, consumo, elettrici, acqua potabile, Solbiate e Lona Utenze 12.000 euro, condominio zero, perché non è un condominio Canoni di affitto annuo 9.000, quindi vedi che si è parlato di cifre Totale annuo per l'azienda di Valle di costi di gestione 21.000, quindi in quella delibera che tu citi, poi chiederò spiegazioni ad Anna perché ti ha detto questa cosa, ci ha legato un documento tecnico, che metto a favore delle telecamere, sulla quale i sindaci hanno preso la loro decisione, che come dice la delibera è parte integrante della delibera stessa, in cui ci sono la montella dell'affitto, quindi vedi che ce ne siamo presi cura, non siamo proprio così sprovveduti, 9.000 euro all'anno, un investimento di 45, 5 anni sono completamente ammortizzato. Le utenze, stimate in 12.000 euro all'anno, a carico dell'azienda di Valle, metto invece l'intervento a totale carico del comune, è scritto nella delibera, forse le delibere bisogna leggerle tutte, non solo la parte deliberante, ma anche gli allegati, quindi ti invito ad andare a leggere bene la delibera, domani chiamerò Anna per vedere se è vero quello che hai detto, poi gli passo quello che gli hai detto ovviamente, e poi farà lei le sue conclusioni, ma come vedi nella delibera dove si è deciso di venire assorbiate, ci sono tutti gli elementi che hai detto tu, che invece ci hai detto che non abbiamo considerato. Benissimo. Quindi io mi fermo qui e non ti dico altro perché mi sembra che abbiamo esaurito, segretario a lei.